Invece dovete sapere che io sono un uomo molto libero, molto libero. Sapete perché sono libero? Sì, devo discutere come arrivare da qui a fuori la porta, però io sono molto libero perché mi sono costruito una vita per potervi permettere il lusso di dire quello che penso. E quindi questa è la libertà. La libertà è esprimere liberamente il tuo pensiero senza preoccuparsi di danneggiarsi la vita o la carriera, senza preoccuparsi che si disturba il manovratore. Ma per fare questo necessitano tanti sacrifici, tante rinunce e farsi tanti nemici potenti. Oggi è venuto in un territorio come quello di Saronno dove solo pochi giorni fa è stato arrestato un unesimo esponente di una cosca di Indrangheta. Recentemente c'è stata un'altra grande inchiesta che è quella di IDRA, della direzione distretto all'antimafia di Milano, che ha ipotizzato questo sistema mafioso lombardo. Lei crede in questa visione del fatto che le mafie si stiano unendo in qualche modo, si stiano organizzando a livello economico per gestire grandi capitali in un territorio come quello del Nord Italia? Io non conosco questa indagine quindi non ne posso parlare. Io le posso dire che sin dagli anni 70 c'è stata sempre sinergia tra Indrangheta, Camorra e Cosa Nostra. Ci sono stati sempre degli scambi, anche ad esempio per la custodia dei latitanti, in John Venture per grandi importazioni di cocaina dal Sud America o anche per spartizione in affari. Quindi questo c'è stato da sempre, c'è da sempre, sin dagli anni 70 sicuramente lo è dimostrato dal punto di vista investigativo e giudiziario. Sul fatto specifico non le posso rispondere perché non conosco l'indagine, non l'ho studiata. Diciamo che in questo territorio comunque la mafia è sempre più economica e sembra che ci sia quasi una normalizzazione da parte anche della società civile nel entrare in affari con questo tipo di personaggi perché c'è un'utilità spesso. Allora guardi, dopo la Calabria la regione ha maggiore presenza indrangheta che proprio la Lombardia perché la Lombardia è la regione più ricca quindi le mafie vanno su un territorio dove c'è ricchezza perché qua dove c'è ricchezza è più facile mimetizzare e fare riciclaggio e quindi poi fare affari. Quindi è ovvio che qui c'è una presenza fortissima dove l'Andrangheta, Camorra, Cosa Nostra sono qui per comprare alberghi, ristoranti, pizzerie, gestire grandi supermercati o anche latifondi perché ripeto è un territorio vasto e un territorio anche se vogliamo accogliente perché in molte occasioni abbiamo visto degli abbracci tra la mafia del sud e imprenditori ingordi del nord. Esatto, infatti il procuratore della direzione distrittuale antimafia, la Dolci, sta proprio dicendo questo cioè oggi l'Andrangheta in particolare sostanzialmente fornisce dei servizi agli imprenditori. Guarda, la Dolci è un magistrato molto esperto, molto preparato, io la stimo tantissimo proprio per il suo rigore, i suoi studi e soprattutto il grande impegno che mette nell'indagine quindi seguitela perché è un magistrato che si dà da fare, coordina i giovani magistrati si fa quel che si può in base agli strumenti e ai mezzi che si hanno.